Enrico Giuliani, lei si appresta a passare il testimone al suo successore, ma che giovani industriali di Reggio Emilia lascia Enrico Giuliani a chi prende questo testimone? Quattro anni nel gruppo giovani sono stati personalmente determinanti e credo anche, spero, per il gruppo che con me ha lavorato duramente. Abbiamo, credo, investito tanto sulle persone, sulla cultura d'impresa, abbiamo cercato di confrontarci, di analizzare insieme quello che è il mercato e quelle che erano le prospettive, cercando di puntare sempre sull'innovazione, sulla digitalizzazione e soprattutto sui rapporti, che alla fine sono quelli che generano e creano il vero valore aggiunto all'interno dell'impresa e nel business. In questi quattro anni l'economia reggiana ha subito degli sviluppi, non sono mancati e tuttora esistono i punti di crisi. Qual è il suo quadro, se lei dovesse scattare una fotografia dell'economia da quando lei è diventato presidente dei giovani industriali ad oggi? Dopo la crisi 2008-2009 Reggio Emilia è stata una delle prime a ripianificare tutti i gap produttivi, sia in termini di produzione interna, sia in termini di occupazione. Io credo che Reggio Emilia sia un esempio da seguire, in quanto può vantare una filiera, una filiera molto molto importante, può vantare delle competenze importanti, può vantare un export di primissimo livello, a livello nazionale ed internazionale. Quindi io credo che Reggio Emilia abbia e stia dando ancora un grandissimo esempio a livello anche nazionale. Noi abbiamo seguito un po' con la nostra trasmissione, con le nostre telecamere, le vostre attività e se mi viene in mente qualcosa è l'importanza che voi avete dato in questi quattro anni, dei suoi mandati a rapporti col mondo della scuola e una su tutte, le start-up, cioè le giovani imprese. È così o mi sbaglio? Sì, ha completamente ragione. Il tema dell'education della scuola è per noi determinante in quanto parliamo di cultura, la cultura dell'impresa che noi vogliamo far radicare nel territorio. Il tema delle start-up è una parte di questa cultura d'impresa. Abbiamo in quattro anni attratto oltre 300 start-up, abbiamo incubato oltre 60 start-up, abbiamo portato a Roma, in un incubatore certificato, quattro start-up di Reggio Emilia e abbiamo ottenuto oltre 3 milioni di investimenti sulle nostre attività riguardanti le start-up, quindi numeri di primissimo livello, anche livello nazionale. Le start-up hanno un duplice valore per noi, sia creare sviluppo e opportunità, ma anche fare in modo che le imprese consolidate, quelle che hanno generato nel passato il vero valore aggiunto, possano confrontarsi con nuovi paradigmi. Quindi per noi il tema della start-up ha un valore qualitativo e quantitativo sul territorio. Se lei dovesse raccontare ai suoi colleghi di altre parti del nostro paese qual è il valore aggiunto di un imprenditore giovane di Reggio Emilia e dell'Emilia? L'imprenditore reggiano, un ragazzo reggiano, è un ragazzo che ha la cultura dell'impresa nel sangue, che deriva dalla terra, deriva dall'attaccamento al territorio. È un ragazzo che è preparato, un ragazzo che ha studiato, un ragazzo che ha le competenze per fare, è un ragazzo che ha le infrastrutture per poter fare, è un ragazzo che a Reggio può ottenere i risultati che merita. Un esempio lampante di quello che sto dicendo è il mio successore Marco Righi. Qual è il futuro di Enrico Giuliani? Il mio futuro è un futuro sempre a disposizione dell'associazione per quello che avrà bisogno, è un futuro molto in famiglia, è un futuro dedicato ai miei bambini, è un futuro dedicato a un nuovo ciclo anche della mia esperienza lavorativa, quindi nuovi progetti, nuove idee e mai con le mani in mano. Marco Righi è il nuovo presidente dei giovani industriali di Unindustria Reggio Emilia, ma chi è Marco Righi? Diciamo che io sono fondatore titolare della Kytec Flash Battery, noi produciamo batterie a litio e abbiamo la sede a Calerno di Sant'Ilario di Enza. Noi ci eravamo incontrati in azienda e avevamo visto un'azienda bella, motivata, innovativa e super lanciata. Come sta Kytec? Stiamo continuando a crescere, abbiamo dei nuovi piani, una nuova sede, insomma continuano a crescere e i sogni continuano a esserci. E' un ropa è un sogno lo slogan di questa assemblea dei giovani industriali, ma in concreto che cosa significa Righi? Diciamo che soprattutto il gruppo giovani credo che debba spingere a far sognare le persone, i nuovi imprenditori del domani, perché tutto parte un po' da lì. Se vediamo anche i dati, le maggiori otto aziende del mondo sono comunque state fondate da persone giovani, che normalmente si pongono dei quesiti alle domande del futuro, non pensano solo a come si sono risolti certi problemi in passato. Credo che tutto nasca un po' dal sogno e dalla passione. Io immagino che mentalmente lei si sia già tracciato un'agenda delle attività che vuole intraprendere e delle linee di indirizzo. Mi può anticipare qualcosa da presidente neoeletto dei giovani industriali di Reggio Emilia? Sicuramente continueremo a portare avanti quello che è stato egregiamente fatto negli anni scorsi, ovvero soprattutto il progetto Apidea, cioè far crescere le start-up. Ovviamente noi dovremmo un po' rispirare gli imprenditori, ma vogliamo anche molto lavorare con i giovani, perciò andando nelle scuole facendo capire loro cosa vuol dire essere imprenditore e provare a appassionarli verso l'industria, che comunque necessita quotidianamente di nuovi tecnici e nuove figure. Un appello che arriva sempre, e l'abbiamo fatto anche quando eravamo venuti a Caite, che è di studiare discipline, seguire corsi di studi che diano uno sbocco professionale. È un appello sempre valido quello? Sì, anche confrontandomi con i colleghi c'è sempre bisogno di conoscenze tecniche, perché sempre di più si ha bisogno di personale qualificato. Presidente Storchi, un passaggio di testimone alla guida dei giovani industriali di Reggio Emilia. Ma quanto sono importanti i giovani per il nostro futuro e il futuro industriale di questo territorio? Sono molto importanti. Per noi oggi effettivamente è un passaggio molto significativo e sono molto contento perché sarà eletto alla presidenza dei giovani uno start-upper, un neoimprenditore di prima generazione che ha iniziato 6-7 anni fa e oggi all'età di 33 anni conta un'azienda, ha sviluppato un'azienda che ha più di 50 collaboratori ed un fatturato di notevole entità. E quindi sono molto contento perché non sognavo nemmeno di avere un segno così importante all'avvio della mia presidenza. Il fatto che ci sia un giovane di prima generazione che ha già dimostrato di conoscere il mestiere di imprenditore sicuramente mi aiuterà molto nel compito di far crescere i giovani imprenditori e dare loro la possibilità di fare esperienza e di poter accedere a quelle che sono anche le posizioni apicali della Confindustria Locale e non solo, speriamo anche quella nazionale. Contro tutte le Cassandre che vedono sempre scenari apocalittici c'è ancora possibilità di fare impresa partendo dal nulla o quasi? È molto difficile ma oggi abbiamo un esempio concreto che è ancora possibile, abbiamo un segnale estremamente positivo, un segnale che conferma la validità e la vitalità della nostra industria e del nostro territorio. Il modello emiliano va di moda negli ultimi mesi, negli ultimi tempi per i record su record che la nostra regione riesce a stabilire in tutta Italia e questo è un segno che conferma questa vitalità appunto del nostro contesto economico ed industriale. I consigli non sono mai bene accetti, soprattutto se non richiesti, ma io glielo chiedo, se lei dovesse suggerire qualche linea di indirizzo al nuovo presidente Righi dei giovani industriali che cosa direbbe? Ma ho uno slogan fisso, fare insieme e quindi mi confermo nella mia impostazione, tuttavia e credo che non debba insegnare a questo ragazzo cosa significa innovazione, perché credo che la sua azienda sia una dimostrazione di innovazione di prodotto e quindi sì, è importante che sappia lavorare con gli altri, credo che l'abbia già dimostrato anche nella sua azienda e perché il fare insieme porta lontano.